ecco oggi siamo in galleria siamo in galleria per andare dove? in centro da malfi, buono! prossima sempre più in giù questa mi triggera un attimo questa velocità in su non ci sarà mica pericola l'ovionico sai che bello qua andare giù con monopatino arrivi giù a 800 all'ora non ci sarà un po' pericola, non ci sarà un po' pericola, non ci sarà un po' pericola ciao ciao siamo al porto di benvenuto a maiori allora siamo al porto di maiori ieri non abbiamo aperto nel chiuso il vlog perché eravamo in spiaggia infatti mi sono un po' bruciato sono rosso, giallo e oggi dovremmo andare a crapi oggi dovremmo andare a capri e siamo qui che aspettiamo un traghetto che arriverà fra ben 40 minuti e noi siamo qui a guardarci per l'aria esatto e adesso ci ascolteremo musica e vi faremo qualche video dalla bacca ciao 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 Allora, perché no? Allora, dobbiamo ancora arrivare a Positano, però il capitano ha deciso di accelerare, ferma con la mano e quindi mi arrivano tutti gli schizzi in bacio. La barca è vuota, tutti ci sono stati, ci sono stati. Ciao! 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 Ciao!